Presidente, buongiorno. Lei ha appena partecipato a un dibattito molto interessante nella plenaria del Comitato Europeo delle Regioni sull'iniziativa cittadina. Ci può spiegare l'importanza di questa iniziativa e il suo contributo? Innanzitutto il mio intervento serviva anche a sottolineare l'importanza dell'iniziativa dei cittadini in generale. Questo è uno strumento per avvicinare i cittadini all'Unione Europea, alle istituzioni e far capire che l'Europa siamo noi. Perciò è anche importantissimo che queste iniziative vengano prese sul serio dalla Commissione Europea, dal Parlamento e ci sia anche un riscontro in termini di misure che si adottano. Poi nel merito ovviamente dell'iniziativa Minority Safe Pack, che è un tema che a noi altoatesini, sottirolesi, è molto caro. Noi abbiamo questa situazione che abbiamo le minoranze etniche e linguistiche sul territorio, che dopo decenni di conflitti, di crisi, anche purtroppo atti violenti, si è riusciti a trovare una soluzione che ormai è considerata un modello anche a livello internazionale. L'autonomia altoatesina, con gli strumenti di tutela e di sostegno anche della cultura, della lingua, delle minoranze. Io ho sottolineato un aspetto, questo non è soltanto una cosa che serve ai diretti interessati, cioè alla minoranza stessa, ma anche al sistema paese e io credo che servirà anche all'Europa stessa. Abbiamo 50 milioni di cittadini europei che si trovano in questa situazione, che appartengono a una minoranza etnica, linguistica, una minoranza nazionale, dove spesso queste persone si trovano anche in territori di confine. L'Europa è così bella anche perché c'è questa varietà, perché ci sono queste diversità e lo slogan lo conosciamo, essere uniti nelle diversità. Ma alla fine è un tema non soltanto di pacificazione dei territori, di evitare tendenze nazionaliste, secezioniste per stabilizzare, ma addirittura di cogliere il valore aggiunto delle diversità. E noi crediamo che qui da noi questo sia successo. Senta, l'iniziativa europea cittadina, cosa può aiutare il riconoscimento di queste minoranze? Ovviamente è un tema che va innanzitutto regolato a livello dei singoli Stati membri, per quanto riguarda i sistemi costituzionali, i sistemi misure di protezione, a livello del diritto interno di ogni singolo Stato. Però ci sono tematiche che sicuramente rientrano nelle competenze anche dell'Unione Europea. Questo è stato confermato tra l'altro anche dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea, che dopo un primo momento dove l'iniziativa non è stata ammessa, non è stata autorizzata, invece ha sentenziato che è un tema che riguarda l'Unione stessa, è un tema che è anche riconosciuto dai contratti e questo si concentra soprattutto alla possibilità di sostegno e sviluppo della cultura e della lingua delle minoranze, anche con gli strumenti audiovisivi, con la possibilità di ricevere sia le trasmissioni televisive, ma soprattutto anche oggi il tema dell'Internet, dove sappiamo che il geoblocking ovviamente spesso limite la possibilità per le minoranze di ricevere anche servizi, trasmissioni, quant'altro, dal Paese, dallo Stato, l'Imitrofe, che diciamo è quello della propria lingua di appartenenza. Senta, che importanza ha parlare nel Comitato Europeo delle Regioni? Ci sono altre regioni nella vostra circostanza? C'è una specie di, come dire, alleanza informale fra voi, minoranze linguistiche e culturali in Europa? Bisogna dire che le situazioni sono completamente diversificate. Ci sono altre regioni in Europa che hanno un livello di tutela che è simile al nostro. Mi riferisco in particolare, per esempio, al Belgio, dove la comunità di lingua tedesca ha un'autonomia analoga, anche con misure di sostegno e soprattutto anche di sviluppo della cultura, lingua, della minoranza, ma ci sono tantissime altre situazioni dove c'è ancora grande discriminazione, ma soprattutto non la possibilità di avere, per esempio, la scuola nella propria madrelingua, non avere anche i servizi pubblici, non potersi rivolgere nella propria madrelingua anche per usufruire dei servizi pubblici, dove soprattutto è difficile addirittura anche ricevere notizie, ricevere informazioni nella propria lingua e questo ovviamente alla fine fa anche in certo modo morire queste lingue ed è una perdita ovviamente anche non solo culturale, ma anche di identità, di anche partecipazione dei cittadini. Un tema forte è quello della partecipazione e anche di chi appartiene a una minoranza poter partecipare in pieno alla vita pubblica. Senta, alla fine mi piacerebbe anche che lei mi desse a proposito insomma di lingue una dichiarazione in tedesco per quanto riguarda le minoranze linguistiche. Invece adesso se d'accordo toccherei un tema di attualità. Proprio ieri il Centro Europeo per la Prevenzione delle Malattie ha inserito la provincia autonoma di Bolzano tra le zone rosso o scuro. Ve l'aspettavate? Qual è la sua reazione a caldo praticamente? Per un tema la situazione reale che sicuramente è critica. Noi abbiamo proprio ieri deciso anche l'adozione di ulteriori misure restrittive per combattere adesso l'ulteriore dispersione del virus. Purtroppo abbiamo riscontrato anche qui da noi la cosiddetta variante inglese che ha comportato un'accelerazione anche delle infezioni. L'altro tema è quello delle classificazioni perché noi abbiamo una situazione dove testiamo davvero tanto facciamo test ogni giorno su oltre l'1,5% della popolazione intera giornalmente e questo ovviamente fa sì che il dato assoluto delle infezioni riscontrate sale. Perciò noi chiediamo che nelle future classificazioni sia tenuto conto di questo guardando di più al tasso di possibilità sui test effettuati e meno di solo al dato assoluto perché questo falsifica un po' anche le classifiche. Come pensa che, la sua è una proposta concreta, come pensa quindi che il lavoro di questo centro europeo che comunque si trova a gestire una situazione abbastanza inedita possa essere migliorato grazie anche all'apporto delle regioni, delle province? Beh, innanzitutto sono favorevole alla definizione di uno standard unitario a livello europeo se no si continuerebbe a avere delle misure anche per quanto riguarda i passaggi da uno Stato all'altro definiti dai singoli Stati in base ai criteri completamente diversi. Fa bene l'Unione Europea a dire mettiamoci d'accordo sui criteri che comportano una dichiarazione di zona a rischio per un determinato territorio. Importante è che i criteri siano oggettivi, comparabili e tengano conto anche delle diverse strategie che si seguono nelle varie regioni. Sicuramente il fattore RT è un fattore riconosciuto in tutta Europa e questo potrà verso l'elemento. Ripeto, anche il tasso di positività, non il dato assoluto dei test positivi perché dice poco, allora potrei limitarmi a non fare più test, allora sarei senza positivi. Il tasso di positività su tutti i test effettuati potrebbe essere un altro e la situazione ovviamente negli ospedali, la resilienza del sistema, i posti letto occupati rapportandoli ai posti letto disponibili. Questi potrebbero essere dei criteri più oggettivi e senza altro questi potrebbero anche portare poi a una valutazione omogenea e oggettiva della situazione. L'ultima domanda a riguardo, quali sarebbero le sue richieste all'Unione Europea come rappresentante di una di queste nuove zone rosa? La richiesta consiste proprio in questo, di voler rivedere i criteri da un lato e abbiamo già adesso portato avanti qualche iniziativa perché non riguarda soltanto noi, in un primo momento anche l'Emilia Romagna, l'Emilia Giulia, anche altre regioni italiane erano colpite per così dire da questa classificazione, questo è il primo tema. L'altro è proprio la richiesta di voler anche coinvolgere le regioni nella definizione dei criteri stessi. Io credo che sia davvero importante avere una situazione oggettiva perché queste classificazioni a un certo punto porteranno anche delle conseguenze e qui bisogna stare molto attenti perché quando poi si decide di fare delle scelte anche per quanto riguarda la possibilità di spostamenti bisogna prima chiarire in base a quali criteri.